Ciao a tutti ragazzi, benvenuti, ben ritrovati sul canale di AC Milan Inside. Quest'oggi è diverso dal solito, visto che in settimana non andremo a giocare nessun tipo di competizione. Oggi parleremo un poco, parleremo un poco di un argomento che a noi tifosi milanisti oramai ci ha a cuore, ovvero la questione rinnovi di chi ha rinnovato e di chi non ha rinnovato e non ha intenzione di rinnovare o che potrebbe in un modo o nell'altro rinnovare in un futuro prossimo. Prima di iniziare però, come dal solito, vi chiedo di lasciare un like, un commento, di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina, così da rimanere sempre aggiornati sui contenuti che vi porteremo qui su YouTube. In più, in descrizione troverete anche i link per i nostri profili social e il nostro sito web ufficiale www.acmilaninside.com Bene, allora, settimana scorsa è stata definita da molti tifosi rossoneri la settimana perfetta perché oltre alle vittorie tra campionato e Coppa Italia, tra le quali quella del derby, abbiamo avuto anche il piacere e l'onore di vedere finalmente un nostro giocatore rinnovare, rispettivamente Teo Hernandez, fino al 2026, con un ingaggio raddoppiato rispetto a quanto effettivamente percepiva fino a poche settimane fa. Questo argomento è un argomento abbastanza delicato. Addirittura, domenica, durante la partita contro la Sampdoria, la Curva Sud ha esposto uno strescione dove andava a puzzecchiare chi non era effettivamente convinto al 100% di voler rimanere e rinnovare con noi. Ovviamente, due sono in questo momento i giocatori che vanno in scadenza a giugno e sui quali effettivamente il futuro è abbastanza incerto, rispettivamente Franchesi e Alessio Romagnoli. Per quanto riguarda Alessio Romagnoli, giusto aprire una parentesi, nel senso che il giocatore è accostato da Lazio, Lazio che la sua squadra del cuore non l'ha mai negato, però comunque il capitano rossonero ha sempre dato priorità al club di Vialdo Rossi, dicendo appunto che nel momento in cui Maldini e Massara proponessero a lui, al suo entourage, un contratto che possa soddisfare quelle che sono le loro richieste e esigenze, il capitano numero 13, il capitano rossonero, insomma, firmerebbe senza alcun tipo di problemi. Ricordiamolo che comunque il Milan offre a Romagnoli 2 milioni e 8 più bonus all'anno rispetto ai 6 che attualmente percepisce, mentre alla Lazio, secondo indiscrezioni, l'offerta sarebbe da 3 milioni di euro l'anno per un quinquennale più bonus in base a vari obiettivi che possono essere raggiunti sia a livello personale che col gruppo squadra. Quindi la situazione dei Romagnoli, sono sicuro, o meglio, credo che lo stressioni domenica non fosse assolutamente rivolto al capitano, che nonostante questo ha vissuto comunque un anno e mezzo difficile con i nostri colori, dove si è visto essenzialmente essere panchinato da Figaro Tomori, ma nonostante questo in quest'anno e mezzo, in questo arco di anno e mezzo, non si è mai permesso di parlare a sproposito del Mesa e della società, anzi, si è sempre reso molto a disposizione, come possiamo notare nelle ultime uscite, visto che comunque Romagnoli si sta rendendo protagonista di grandi prestazioni, l'ultimo proprio contro la Lazio, dove addirittura ha fornito l'assist per il momentaneo vantaggio di Leao. Per quanto riguarda invece la questione di Frank e Silly, c'è una vera e propria telenovela dietro, perché in questo momento che sì, o meglio, a quanto pare, secondo indiscrezioni, si dice che che sì non abbia intenzione di rinnovare il contratto con Milan, e quindi i tifosi rossonieri, io credo che, soprattutto la curva, si è vista costretta a mostrare quello striscione domenica, soprattutto per quelle famosissime parole che si disse durante le Olimpiadi, ovvero torno a Milano e sistemiamo tutto. Quando effettivamente tornò a Milano dalle Olimpiadi, Livoriano non ha fatto altro che, insieme al suo agente a Tangana, di chiedere cifre a rialzo rispetto alle offerte fatte ai rossonieri, fino a quando ovviamente sia Maldini che Massara hanno scelto di fermare lì ogni tipo di trattativa per il rinnovo del ragazzo. Ovviamente è un discorso molto molto particolare da compiere, perché sarebbe sbagliato comunque poter andare ad attaccare un ragazzo che ha sempre dato tutto per i colori rossonieri e per la maglia che indossa. Però c'è da dire che il tifoso e comunque il tifo in generale si trova ad essere anche abbastanza stufo per queste situazioni che si stanno venendo a creare, dove i giocatori, altro non fanno, che non appena vedono la possibilità di poter andare altrove a guadagnare di più, si lasciano alle spalle l'esperienza rossoniera, dove comunque possono aver dato tanto, abbracciando progetti ai quali effettivamente potrebbero non essere protagonisti, come sta succedendo ad altrombi adesso con Donnarumma al Paris Saint Germain. Per quanto riguarda Livoriano, sono varie le squadre interessate a lui, si parla di Liverpool, si parla di Paris Saint Germain, si parla di Barcellona, nonostante alcuni guadiani spagnoli, in specifico catalani, nelle ultime settimane hanno definito un raffreddamento della pista più che altro per le richieste del Livoriano, e addirittura si parla anche di Inter, dove Marotta vorrebbe in un modo o nell'altro fare una sorta di operazione alla Ciano Noglu 2.0, se così vorremmo definirla, senza però dover cadere ai ricatti contrattuali che potrebbe proporgli Livoriano. Quindi attualmente la situazione è questa con Romagnoli, è un che si in forte dubbio, ovviamente che si è addirittura prossimo alla partenza, mentre Romagnoli si cerca, e mi auguro possiamo trovare un accordo col capitano affinché possa rimanere con noi, perché ricordiamo Romagnoli, a differenza di molti altri, il periodo del Milan di Jong Jong Lee fu uno dei pochi che ha avuto il coraggio di firmare il contratto in bianco, tra virgolette, è un momento delicatissimo della storia del Milan, senza pretendere nulla. Per quanto riguarda invece i rinnovi che potrebbero arrivare, si parla di Rafael Leão e Isma Benassere. Benassere addirittura potrebbe essere quasi imminente, nelle prossime settimane potrebbe essere ufficializzato, rinnovo di contratto fino al 2026, con 4 milioni di stipendio annuale. Per quanto riguarda Leão invece la situazione è un po' più complicata, ma non tanto per le richieste del giocatore, che il giocatore ha sempre detto mi trovo bene a Milano, voglio rimanere qui, ma più che altro per una questione legata alle faccende legali con lo Sporting di Lisbona. Infatti, come ben sapete, Leão è stato condannato a versare allo Sporting all'incirca 16 milioni di euro, che possano ricompensare la perdita del cartellino da parte del club di Lisbona, quando il portoghese si svincolò per poi approdare a Lille. Nonostante i avvocati di Rafa abbiano fatto ricorso, la situazione è abbastanza complicata e questo non potrebbe fare altro che inceppare la tartativa per il rinnovo di contratto di Leão con il Milan. La situazione per il momento è questa. Mi auguro che questo breve video possa esservi servito per fare chiarezza sulle situazioni contrattuali rossonere. Ci vediamo nel corso della settimana per altri video informativi a livello di mercato, anche perché il Milan si sta iniziando a muovere per i colpi estivi, anche per i possibili rinnovi che potrebbero arrivare, ma soprattutto per le analisi della fondamentale sfida che ci aspetta sabato alla rechi di Salerno contro la salernitana del neo allenatore Davide Nicola. Per il momento è tutto, sempre forza meno.